Una nuova operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Nura della compagna di Ierzu. A pochi giorni la sequestra di oltre due chili di cocaina purissima lungo la statale 131 nei presi del bivio Peroniferi da parte della compagnia carabinieri di Ottana che ha anche arrestato un 44enne di Dolianova. Un altro corriere della droga è finito nella rete dei carabinieri. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ierzu nell'ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale predisposto lungo la statale 125 e la cosiddetta orientale Sarda hanno arrestato in flagranza del reatto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 55enne originario di Tertania con precedenti specifici. L'uomo a bordo della sua auto è stato fermato dai militari durante un posto di controllo e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. L'attività dei militari ha permesso di recuperare circa 100 grammi di cocaina che erano stati occultati all'interno dei sedili posteriori dell'auto. Inoltre i carabinieri hanno sequestrato circa 2.000 euro in contanti probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Il corriere Ogliastrino è stato rinchiuso nella casa circondaliare di Lanusei con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.